Sinceramente pensavo potesse essere una partita un po' più difficile sotto l'aspetto svolgimento e sotto l'aspetto conduzione gara, invece siamo stati bravi a indirizzarla subito sin dal primo tempo, poi sì sono d'accordo che nel secondo tempo l'abbiamo chiusa e gestita anche bene, ci poteva stare alla fine gli ultimi dieci minuti scarsi un po' di perdita di campo tra virgolette, li siamo abbassati un attimino ma ci poteva stare, i ragazzi hanno fatto una buona interpretazione della gara, abbiamo fatto buone giocate anche di qualità quindi sono contento perché diamo continuità alla vittoria di domenica scorsa su un campo difficile, oggi abbiamo dato una grossa prova di forza in casa quindi ci prepariamo a questo trittico di partite importanti tra Pineto, Pineto, Vastese, Pineto, Vastese e Materica quindi nelle migliori condizioni. L'ho detto anche strada facendo anche a voi mi sembra, per fare un campionato diverso c'è bisogno di avere una rosa ampia quindi e di qualità importanti anche fuori dagli undici, non ne abbiamo, purtroppo Riccardo in questo momento ha fatto bene domenica, è rimasto fuori oggi ma come lui ce ne sono tanti altri che la domenica rimangono fuori quindi concentrarsi solo su Riccardo come singolo mi sembra un po' riduttivo, abbiamo delle qualità diverse davanti e cerchiamo di sfruttarle nel migliore dei modi, Andrea sta facendo benissimo da under in quella posizione, Danilo è rientrato oggi dopo la scolifica, sappiamo le sue qualità quindi magari partita per partita si può valutare un utilizzo oppure un altro quindi bocciatura assolutamente no, Riccardo per noi è un giocatore importante. Ma abbiamo preso Giulio per avere un'alternativa davanti alla difesa con caratteristiche diverse e quelle che in questo momento ha, con le caratteristiche diverse di Leonardo, Brenci quindi oggi è fatto molto bene al debutto, ci poteva essere qualche dubbio sulla tenuta atletica ma l'abbiamo poi preservato alla fine risparmiandogli qualche minuto però devo dire che ha fatto molto bene sotto l'aspetto della gestione, del palleggio e della verticalizzazione quindi sono due giocatori importanti per quel ruolo quindi stesso discorso di Riccardo prima, abbiamo valide alternative quindi partita per partita valuteremo il da farsi.